Mentre Renzi ci fa parlare un po' tutti della sua ultima sparata, quella del Ponte sullo Stretto, qua in Parlamento invece siamo per discutere la legge di stabilità del 2017, che è una cosa molto importante e soprattutto molto molto seria. E chissà se il Presidente del Consiglio non ci voglia invece infilare qualche altra sparata in vista del referendum e che non voglia finanziare l'operazione tagliando beni e servizi a partire ad esempio dalla sanità o dagli enti locali. Noi di possibile vigileremo perché questo non accada e vogliamo rispondere con alternative puntuali e realmente utili. Vogliamo quindi raccogliere le proposte di chiunque ci voglia dare una mano in collaborazione con i nostri economisti e con i membri del Comitato Scientifico per una legge di bilancio che sia veramente possibile. Quindi prepariamo giorni migliori e facciamoli insieme.